Grazie a tutti. Grazie. Giù le mani. Contrari e astenuti. Approvato all'unanimità. Dobbiamo poi approvare le tre commissioni principali che governeranno un po' i lavori del Congresso. A partire dalla commissione elettorale, la proposta è Domenico Mogavino, Luca Francioli e Gaetano Di Capua. Favorevoli, sulle mani. Grazie. Giù. Contrari e astenuti. All'unanimità. La commissione verifica poteri. Mario Gianluca Cavaliere, Simona Valdusso, Antonina Piro, Ida Roveda e Raffaella Valsecchi. Favorevoli, sulle mani. Grazie. Giù. Contrari e astenuti. La commissione mozione congressuale. Maurizio Ferrari, Antonio Buccino, Alessandro Cerioli, Stefano Galli, Alessandro Gattone. Grazie. Sulle mani. Grazie. Giù le mani. Contrari e astenuti. Approvato all'unanimità. Un altro adempimento che dobbiamo fare è quello di equiparare le cosiddette mezze deleghe, che sono in realtà solo quattro, alle altre intere, per evitare ovviamente che si possa riconoscere il voto di questi quattro delegati, che se li manteniamo una delega diversa dagli altri sono facilmente identificabili. Per cui vi propongo di equiparare tutte le deleghe a una delega intera. Favorevoli? Sulle mani. Grazie. Giù le mani. Contrari e astenuti. All'unanimità. A questo punto gli ospiti, i graditissimi ospiti che sono con noi oggi, li saluteremo e li nomineremo, come giusto che sia, al termine della relazione della Segretaria Generale. Però, prima di dare la parola a Elena, lasciatemi ringraziare per la sua presenza e per essere con noi oggi il Segretario Confederale, Giulio Romani. Altrettanto, prima di dare la delega, credo che saranno d'accordo gli altri ospiti, se faccio per lui un'eccezione, siamo felici di avere con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di cuore di essere qui. È importante avere il vostro appoggio, la vostra presenza e il vostro affetto. Una sala piena di persone è una sala piena di gioia, soprattutto di questi tempi. Quindi grazie. Mi scuso già perché la relazione non sarà brevissima, ma mi perdonerete. Cinque anni di lavoro avevo tante cose da dirti e una parte le ho dette io e una parte le hanno scritte con me i segretari delle federazioni. Non mi sono sentita di tagliare i loro interventi importanti, perché sono una parte di me e sono una parte del territorio. Quindi, vi prego, abbiate pazienza e ascoltateci, perché siamo tutta la CISL insieme che vi parla. Cari amici, cari amiche, gentilissimi ospiti, io vi ringrazio per la presenza e per il contributo che porterete al nostro congresso. Un congresso che si svolge con un anno di ritardo rispetto al previsto e abbiamo bisogno, in questo momento, di ritrovare il calore almeno virtuale di un abbraccio. Non avremmo mai pensato, quando abbiamo concluso il primo congresso della CIS Pavia Lodi nel 2017, che negli anni che si prospettavano sarebbero stati così pubblicati, così difficili, così pieni di incognite e di dolore. Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta la combatteremo con armi fatte di bastoni e di pietre. Lo diceva Einstein, non siamo così distanti da questo pericolo. Mentre è in corso una guerra, la vita negli Stati continua, è la modernità che ci insegna a poabitare con i grandi traumi e con i costi che questi comportano. Come CISL guardiamo con apprensione il precipitare degli eventi e ci stringiamo a tutte le vittime inermi di questa guerra, alla numerosa comunità ucraina che vive nelle nostre province. Come ha detto Gandhi, non fa alcuna differenza per i morti, per gli orfani e per i senza tetto, se la folle distruzione è coltivata in nome del totalitarismo, in quello santo della libertà o della democrazia. La paura dell'estendersi del conflitto, il terrore che degenera in una guerra nucleare, ci dà la misura di quanto siano fragili le nostre certezze. Come ha detto Papa Francesco, in ogni epoca la pace è insieme un dono dall'alto e il frutto di un impegno condiviso. C'è infatti un'architettura della pace dove intervengono le diverse istituzioni della società e c'è un artigianato della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare e edificare un mondo più pacifico, a partire dal proprio cuore e dalle proprie relazioni di famiglia, nella società, con l'ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli stati. Le vie per la costruzione di una pace e duratura sono essenzialmente tre. Prima di tutto il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo l'educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine il lavoro, per una piena realizzazione della dignità umana. Un lavoro all'insegna della sicurezza, un lavoro giusto, retribuito correttamente. Noi non possiamo infatti più accettare le morti sul lavoro, che rappresentano un bollettino di guerra quotidiano. Si tratta di tre elementi imprescindibili per dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente. Ma prima della guerra, ed ora insieme alla guerra, c'è stata e c'è la pandemia. Non potremo mai dimenticare che grazie alle capacità di un anestesista dell'ospedale di Codugno, che ha saputo con la sua professionalità andare oltre i cosiddetti protocolli, è stato scoperto il primo paziente affetto da Covid-19 nel nostro territorio. La possibilità di contagio in Italia era un'eventualità, fino a quel giorno, ritenuta assolutamente remota e fantasiosa. Non è certo la prima volta nella storia che si verifica una crisi di tipo pandemico, che riguarda già tutta la popolazione mondiale e che produce drammi e sconquassi inenarrabili, sia sanitari che sociali. Si ha memoria di malattie di questo tipo dai tempi della peste di Atene, nel 400 a.C., di cui si stima un impatto in termini di morti di 100.000 persone, e poi la peste di Giustiniano, dal 500 a.C., con 100 milioni di morti, la peste nera del 1300, con 50 milioni di morti, l'influenza spagnola, molto di più ravviginate nella seconda metà del secolo, l'influenza asiatica, l'influenza di Hong Kong, la SARS, l'HIV, l'Ebola, e poi il Covid-19. Il Covid-19 ha fatto 6 milioni di morti, fino ad oggi stimati, di cui 160.000 in Italia e ben 39.000 in Lombardia. Eppure, anche in questo frangente, è come se fosse la prima volta. Come ha scritto il filosofo sloveno Slavoj Zizek nel suo Virus, solo i film apocalittici, come il profetico contagio di Steven Soderbergh del 2011, ci richiamano di tanto in tanto a prendere sul serio i rischi tremendi per l'umanità, quali quelli delle pandemie, esorcizzando così le paure, ma non aiutandoci nella direzione di una responsabilità consapevole e di una prevenzione adeguata. Certo, a due anni di distanza dall'inizio del dramma, per molti versi ci sentiamo consapevoli e attrezzati di fronte alla pandemia, per usare le parole di Paolo Giordano in un articolo di Repubblica. Nonostante le voci critiche, spesso decisamente poco obiettive e ingenerose, e le inevitabili eccezioni del caso, va riconosciuto che la società italiana nel suo complesso ha accettato e vissuto con responsabilità il lockdown, rispettando il distanziamento sociale e cercando di sostenere una ripresa molto difficile. Soprattutto la sanità ha dato prova di grande resilienza, con la sua indefessa sollecitudine del personale, con la costruzione in tempi di record di nuovi reparti di terapia intensiva, con lo sprint nelle ricerche sui vaccini anti-Covid e con la progressiva messa a punto delle terapie. È la prima volta, in sostanza, che grazie ai progressi compiuti dalla scienza medica vengono messi in campo strumenti di sorveglianza, monitoraggio e contrasto di portata enorme e globale. Ma possiamo dirci, altrettanto consapevoli ed attrezzati, rispetto alle dinamiche sociali innescate dalla pandemia e dagli effetti di lunga durata, per ora meno evidenti di quelli sanitari, ma destinati a pesare a lungo nel tempo e forse a stravolgere la vita delle persone dal punto di vista sociale e psicologico. A ben vedere, le questioni più relevanti che la società si è trovata ad affrontare sono quelle sociali e psicologiche che si sono sviluppate all'interno delle abitazioni e tra le persone nel periodo del lockdown e che oggi sussistono in regime di distanziamento fisico ancora parzialmente in alto. Abbiamo infatti vissuto involontariamente una sorta di esperimento sociale anomalo e totalmente inedito che mai avremmo avuto il coraggio di affrontare se non ci fossimo stati costretti da un'emergenza eccezionale. L'esperimento cui hanno dovuto partecipare loro malgrado tutti e nessuno escluso è consistito nella sospensione del tempo, della mobilità, dei contatti umani e sociali esterni alla propria abitazione. Sia che si abiti da soli, sia che si viva con i propri familiari, sicuramente siamo stati tutti colti da una sensazione di profondo stupore rispetto al silenzio delle strade, alle immagini delle città vuote, alla solitudine diffusa. Una sconosciuta e una prova dura che ci ha posto di fronte a una realtà sconosciuta e articolata secondo almeno tre tipologie. Quella della solitudine totale, per alcuni, quella del contatto obbligato e continuo con i propri familiari o conviventi in spazi in qualche caso ristretti e quella dell'interruzione delle relazioni amicali, scolastiche e lavorative per tutti. Abituati come eravamo a vivere vite disordinate e frettolose, distratti da mille stimoli spesso superficiali, chat, media, informazioni, pubblicità, divertimenti, la situazione anomala ci ha messo di fronte in maniera inusuale alla nostra intimità psichica e dal vissuto più profondo delle nostre relazioni sentimentali, interpersonali e sociali. Il silenzio e la solitudine sono diventati uno spazio vuoto nel quale si sono moltiplicati il disagio esistenziale, l'insicurezza e la paura. Paura della malattia, ma anche paura del proprio caos interiore, con i suoi contenuti sia di tipo emozionale, ansia, depressione, preoccupazione per i propri cari, che di tipo razionale, scelte da compiere, analisi critica del proprio vissuto, del proprio impegno lavorativo, compiti da assolvere, paura per il proprio lavoro e per il proprio futuro. E non è passata inosservata l'impreparazione di fronte al venir meno dagli spazi di intrattenimento, di occupazione del cosiddetto tempo libero. È il tema della solitudine dell'uomo moderno, calato in una realtà sociale densa e massificata, che ci vede in gran parte soli nella moltitudine. Le famiglie con bambini sono state e sono in grande difficoltà, sia laddove i genitori attrezzati, culturalmente ed economicamente, pronti, hanno trasformato la casa in una classe di scuolo di asilo nido, sia laddove la carenza di adeguate risorse umane e materiali ha provocato ripercussioni di vario genere sull'equilibrio psicologico e sociale dei soggetti più deboli. Lo sforzo enorme prodotto da molti insegnanti in termini di didattica a distanza è incomiabile e deve farci capire quanto sia importante un uso intelligente delle tecnologie informatiche. Ma non vi è dubbio che il dramma della solitudine ha assunto nei mesi di lockdown più rigido proporzioni inaudite e in aggiunta è noto ormai che il disagio profondo ha innescato un aumento vertiginoso di richieste di aiuto ai centri psichiatrici e antiviolenza, che nelle case rifugio e i posti disponibili sono esauriti e che le vittime di violenza domestica sono incostante a un punto. È lecito chiedersi però se la sospensione, la solitudine e il silenzio ci abbiano insegnato qualcosa di nuovo e di più. Sia rispetto al proprio io e alla propria interiorità che rispetto alla propria vita nella società. In questo senso non mancano le voci che sottolineano come nella pandemia e nell'isolamento a casa abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il valore del silenzio contro i rumori della vita sia quelli delle consuetudini della normalità traffico, intrattenimento, conflitti che quelli dell'emergenza ridondanza comunicativa terrorismo, allarmismo, drammi occorre riconoscere ed apprezzare i segnali positivi che provengono da una parte della società rispetto alle opportunità offerte dalla solitudine e dal silenzio che si è creato intorno a noi non solo in termini di alleggerimento del traffico e dell'inquinamento per molte persone si è presentata a volte per la prima volta l'occasione di riflettere in maniera tranquilla ed estesa sulla propria esistenza di provare a selezionare i momenti di scambio e colloquio con gli altri di vivere forme varie di spiritualità concentrazione e rilassamento e momenti di religiosità magari a distanza ma con grande e particolare intensità per tutti si è presentata l'opportunità di rivedere i contenuti e le forme dei propri rapporti familiari cercando di coglierne la parte essenziale sfrondando quelle relazioni e quei tempi di condivisione dagli elementi superflui e da quelli superficiali per tutti è apparsa in tutta la sua evidenza la necessità di salvaguardare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare e sociale evitando che il lavoro qualunque esso sia si espanda fino ad occupare gli spazi che dovrebbero essere soltanto nostri della nostra vita privata e delle nostre relazioni umane importati per tutti è diventato chiaro il valore della relazione di cura e quello del supporto ai soggetti soli e malati spesso dimenticati rispetto agli altri impegni della vita al di là delle illusioni rispetto al fatto che tutto possa tornare come prima in molti ambiti della società si coglie la voglia di ripensare il nostro modello di sviluppo socio-economico ed in particolare il rapporto tra individuo e comunità quello tra salute e lavoro e dunque tra sociale ed economia e quello tra umanità e pianeta abbiamo toccato con mano come solo la solidarietà comunitaria sul territorio sia in grado di colmare le lacune di un sistema di welfare che lascia troppe persone sole con i propri problemi sociali e di salute persone prescindendo dal grado di parentela in altre parole l'occasione ci permette di riconsiderare il contenuto della vera felicità e del vero benessere che si alimenta di relazioni umane significative e di valori positivi e di aprire gli occhi di fronte al fatto che la ricerca del benessere individuale e collettivo è legata strettamente allo stare in pace con se stessi con le persone intorno a noi e con la comunità di vita vivere con il mondo e non solo nel mondo in un rapporto propositivo e costruttivo con le diverse soggettualità che incontriamo nel nostro cammino avere dei veri amici persone con cui sentirsi affratellati a seguito di una scelta condivisa di valori e di esperienze e che costituiscono una risorsa umanamente e socialmente insostituibile uno specchio amichevole ai propri problemi di autoriconoscimento e posizionamento nella realtà sociale un supporto al nostro percorso di ricerca spirituale ricercare il dialogo ed aprirsi all'accoglienza dell'altro sviluppando per quanto possibile un'identità aperta relazionale inclusiva e comunitaria in un periodo tanto buio il sindacato ha ritrovato un proprio ruolo importante tantissime persone lavoratrici lavoratori pensionate pensionati spaesati impauriti per la minaccia presente e l'incertezza del futuro si sono rivolti alle nostre sedi che sono rimaste coraggiosamente sempre aperte dal maggio 2020 i nostri operatori sono stati e sono tuttora presenti e disponibili sempre nonostante il pericolo per sé e per le proprie famiglie abbiamo pagato dei prezzi per questo ricordiamo Leo Pozzi mancato a causa del Covid-19 ma anche tutti i nostri operatori che si sono ammalati e per fortuna sono guariti a volte non senza conseguenze successive in tutti i noi CISL le persone hanno trovato aiuto consiglio conforto e spiegazioni rispetto ai loro dubbi al loro malessere hanno trovato prima di tutto una presenza hanno trovato umanità comprensione accoglienza in una parola abbiamo fatto davvero sindacato nel senso etimologico del termine insieme e giustizia e quando si uniscono concetti di insieme e di giustizia le donne e gli uomini sono capaci di azioni ideali e concrete assolutamente meravigliose la crisi sanitaria ha imposto un'accelerazione nel percorso di ripensamento degli strumenti della governance economica dell'eurozona avviato nello scorso decennio con un significativo cambio di passo da discussioni e proposte di modifica che riguardavano singoli aspetti degli strumenti esistenti quali la riforma del meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto MES e delle dimensioni e modalità di utilizzo dei fondi che componevano il bilancio europeo il dibattito e le azioni intraprese a livello europeo sembrano configurare innovazioni radicali riguardanti una pluralità di settori e con valorizzazione di principi segnatamente solidarietà e sussidiarietà che nella reazione europea alla crisi finanziaria erano invece rimasti sotto traccia nel sistema europeo in cui politiche economiche finanziarie e di bilancio sono contraddistinte da integrazione e codecisione specie nel percorso di coordinamento istituzionale che contraddistingue il semestre europeo le innovazioni hanno finito per modificare in maniera rilevante anche i margini di autonomia e le politiche condotte in chiave interna l'esplosione della pandemia di covid-19 ha avuto conseguenze epocali non solo per la vita delle persone ma anche per quella dell'Unione europea sin dall'esplosione della pandemia nella primavera 2020 le istituzioni e gli stati membri dell'Unione europea hanno adottato misure senza precedenti per affrontare questa drammatica crisi sanitaria e le sue devastanti conseguenze socio-economiche non così forte ed evidente era stata la solidarietà tra gli stati di Europa nel decennio di pesante crisi economica che ha preceduto la pandemia in particolare la strategia perseguita per affrontare la crisi dell'euro aveva creato una dolorosa contrapposizione tra gli stati del nord Europa che spingevano per una sempre più forte disciplina fiscale ed un rafforzamento dei controlli sulle politiche nazionali di bilancio e gli stati del sud Europa che invece chiedevano più solidarietà finanziaria tra paesi in questo contesto di crescente incomunicabilità tra blocchi regionali è risultato oltremodo difficile progredire con riforme dell'Unione economica e monetaria l'esplosione della pandemia di covid-19 ha costituito una sfida senza precedenti che l'Unione europea come affermato per l'Unione europea come affermato dall'ex presidente della BCE Mario Draghi la pandemia si è immediatamente dimostrata una tragedia umana di potenziali proporzioni bibliche sebbene gli stati membri dell'UE in una fase iniziale della pandemia si siano focalizzati prevalentemente sul contenimento dei contagi ma l'attenzione si è rapidamente spostata sulle devastanti conseguenze socio-economiche della pandemia dopo l'iniziale esitazione le istituzioni sovranazionali europee hanno iniziato a mobilitarsi nel marzo 2020 la Commissione europea ha sospeso l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato concedendo ampio margine di manovra agli stati membri per sostenere imprese in difficoltà in aggiunta la Commissione ha per la prima volta anche attivato la clausola di emergenza del patto di stabilità e di crescita proponendo di sospendere temporaneamente l'operatività delle regole fiscali europee allo stesso tempo la Commissione ha attivato il Fondo Europeo di Solidarietà per fornire assistenza finanziaria immediata agli stati più colpiti dalla pandemia e altre si è messo in piedi un'iniziativa di investimento di risposta a Covid-19 redirizionando 37 miliardi di euro disponibili come riserva nei fondi strutturali e di investimento europei verso spese legate all'emergenza di Covid-19 infine la Commissione Europea ha proposto l'istituzione di uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare rischi di disoccupazione nello stato di emergenza di Covid-19 noto di inglese come Fondo Sure il quale ha introdotto un meccanismo di supporto da parte dell'Unione Europea ai sistemi nazionali di cassa integrazione per lavoratori sulla base di prestiti garantiti da impegni nazionali nei primi mesi della pandemia il Consiglio Europeo ha avuto difficoltà a concordare una linea di azione comune gli stati membri si sono profondamente divisi su quali nuove misure di politica economica mettere in piedi per affrontare la crisi pandemica e rilanciare l'economia europea in particolare il 25 marzo 2020 un gruppo di nove paesi dell'Eurozona Belgio Francia Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Portogallo Slovenia e Spagna hanno richiesto in una lettera al Presidente del Consiglio Europeo che l'Unione Europea iniziasse a lavorare su uno strumento di debito comune emesso per raccogliere fondi sul mercato sulle stesse basi e a vantaggio di tutti gli stati membri garantendo così un finanziamento stabile a lungo termine per le politiche necessarie a contrastare i danni causati da questa pandemia tuttavia Germania e Olanda hanno fermamente rigettato questa proposta ritenendola un tentativo inaccettabile di mutualizzazione del debito ed hanno proposto invece di ricorrere al MES per rispondere all'impatto economico della pandemia nonostante le divisioni il 27 maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato un'ambiziosa proposta per un piano di rilancio europeo finalizzato a riparare i danni economici della crisi sanitaria e a preparare l'Unione Europea per la prossima generazione rafforzandone la resilienza nel suo piano la Commissione ha proposto di aumentare le risorse dell'Unione Europea incrementando il quadro finanziario pluriannale 2021-2027 e creando in aggiunta a quest'ultimo un nuovo fondo per la ricostruzione noto come Next Generation EU del valore di 750 miliardi di euro specificamente finalizzato a supportare gli Stati membri e le loro imprese colpite dalla pandemia di Covid-19 in particolare la Commissione ha proposto questo nuovo strumento europeo per la ripresa e ha proposto uno strumento strutturato in modo totalmente innovativo alla fine dopo estenuanti negoziazioni per ottenere l'unanimità necessaria la proposta Next Generation EU ha visto la luce ha ridotto la componente delle sovvenzioni del fondo per la ripresa a circa 338 miliardi e ha fissato la componente di prestiti a circa 390 miliardi la pandemia di Covid-19 ha rappresentato uno spartiacque non solo per la vita di milioni di europei ma anche per il destino della stessa Unione Europea in risposta a questa drammatica crisi sanitaria e al fine di contenere le devastanti conseguenze socio-economiche della pandemia durante il 2020 le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno preso una serie di misure senza precedenti che influenzeranno il futuro dell'integrazione europea per gli anni a venire in particolare sembra che finalmente gli Stati membri abbiano compreso che solo tutti insieme ed in un'azione sinergica e di mutuo sostegno l'Europa può avere speranze di salvezza un'Europa unita e fondata sui principi di democrazia e pace che hanno ispirato la sua nascita l'Italia è stata fortemente colpita prima dalla crisi economica e poi dalla pandemia non solo in termini di vittime direttamente dovute al Covid ma anche in termini di mancate cure o non tempestive diagnosi numeri difficilmente quantificabili ma che hanno inciso pesantemente sulla salute delle persone e sulla gestione delle famiglie l'impatto non è stato però solo sulla salute psicofisica ma anche dal punto di vista economico ritengo da sempre un fottore estremamente positivo che il 13 febbraio 2021 sia nato il governo Draghi soltanto una figura di così grande serietà e che gode di apprezzamento in Europa e nel mondo ha potuto e può guidare un governo composto dalla quasi totalità dei partiti imponendo sulle diversità di ciascuno il fine comune di tirare fuori il paese dalla situazione in cui versa è riuscito a far comprendere che perseguire il bene comune implica la difesa di valori non negoziabili con una forte connotazione etica i rapporti delle organizzazioni sindacali con il governo Draghi sono fondati su un significativo cambio di passo rispetto ai due governi precedenti sono improntati al reciproco rispetto c'è stato il riconoscimento del ruolo e del valore dell'azione sindacale per quanto riguarda la CIS il rapporto con la politica è sempre stato di piena autonomia e di pieno libertà di giudizio giudizio solo relativo ai contenuti e non ai colori e ai posizionamenti politici quindi non possiamo che svolgere il nostro ruolo di rappresentanza ribadendo che da sempre siamo impegnati al perseguimento del bene comune attraverso un'azione svolta a salvaguardare e promuovere un effettivo assetto democratico un'economia efficiente efficace e rispettosa della dignità della persona una buona occupazione un processo educativo diffuso per la promozione della persona il rispetto dell'ordine pubblico il rispetto della legalità la protezione dell'ambiente la coesione sociale la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali quali quelli garantiti ai cittadini della nostra Costituzione la pandemia la pandemia di covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri paesi europei nel 2020 il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9% a fronte di un calo dell'Unione Europea del 6,2% l'Italia è stata colpita per prima e più duramente dalla crisi sanitaria le prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 2020 e a marzo l'Italia è stata il primo paese dell'Unione Europea a dover imporre un lockdown generalizzato la crisi si è abbattuta su un paese già fragile dal punto di vista economico sociale ed ambientale tra il 99 e il 2019 il PIL in Italia è cresciuto in totale solamente del 7,9% nello stesso periodo in Germania in Francia e in Spagna l'aumento è stato rispettivamente del 30,2 del 32,4 e del 43,6% tra il 2005 e il 2019 il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3% al 7,7% della popolazione prima di aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4% questa sera quando torniamo a casa pensiamo che nel 2020 in Italia c'erano un milione e 300 mila bambini in povertà assoluta ad essere maggiormente colpiti sono stati donne e giovani l'Italia è il paese dell'Unione Europea con il più alto tasso di ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio nel lavoro e nella formazione i cosiddetti NIT il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8% molto al di sotto del 67,3% della media europea questi problemi sono ancora più accentuati nel mezzogiorno dove il processo di convergenza con le aree più ricche del paese è ormai fermo l'Italia è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e in particolare all'aumento delle ondate di calore e delle siccità le zone costiere i delta e le pianure alluvionali rischiano di subire gli effetti legati all'incremento del livello del mare e delle precipitazioni intense secondo le stime dell'istituto superiore per la protezione alla ricerca ambientale nel 2017 il 12,6% della popolazione viveva in aree classificate ad elevata pericolosità di frana e soggette ad alluvioni con un complessivo peggioramento rispetto al 2015 dopo una forte discesa tra il 2008 e il 2014 le emissioni pro capite di gas clima alteranti in Italia espresse in tonnellate di CO2 equivalenti sono rimaste sostanzialmente invariate dietro la difficoltà dell'economia italiana di tenere il passo con gli altri paesi avanzati europei e di correggere i suoi squilibri sociali ed ambientali c'è l'andamento della produttività molto più lento in Italia che nel resto d'Europa dal 1999 al 2019 il PIR per ora lavorato in Italia è cresciuto solamente del 4,2% mentre in Francia e in Germania è aumentato rispettivamente del 21,2% e del 21,3% la produttività totale dei fattori che è un indicatore di misura del grado di efficienza complessivo di un'economia è diminuito del 6,2% tra il 2001 e il 2019 a fronte di un generale aumento a livello europeo tra le diverse cause del deludente andamento della produttività c'è ad esempio l'incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale questo ritardo è dovuto sia alla mancanza di infrastrutture adeguate sia alla struttura del tessuto produttivo caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese che sono state spesso lente nell'adottare nuove tecnologie e lente nel muoversi verso produzioni a più alto valore aggiunto la scarsa familiarità con le tecnologie digitali caratterizza anche il settore pubblico prima dello scopio della pandemia il 98,9% dei dipendenti dell'amministrazione pubblica in Italia non aveva mai utilizzato il lavoro agile anche durante la pandemia a fronte di un potenziale di tale modalità di lavoro del 53% l'utilizzo effettivo è stato del 30% con livelli più bassi di circa 10 punti percentuali nel mezzogiorno questi ritardi sono in parte legati al calo degli investimenti pubblici e privati che ha rallentato i necessari processi di modernizzazione della pubblica amministrazione delle infrastrutture e delle filiere produttive nel ventennio 1999-2019 gli investimenti totali in Italia sono cresciuti del 66% a fronte del 118% nella zona euro in particolare mentre la quota di investimenti privati è aumentata quella degli investimenti pubblici è diminuita un altro fattore che limita il potenziale di crescita dell'Italia è la relativa lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali nonostrante i progressi degli ultimi anni permangono ritardi eccessivi nella giustizia civile in media sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile di primo grado le barriere di accesso al mercato restano elevate in diversi settori in particolare le professioni regolamentate tutto ciò ha un impatto negativo sugli investimenti e sulla produttività questi problemi rischiano di condinare l'Italia a un futuro di bassa crescita da cui sarà sempre più difficile uscire la storia economica recente dimostra tuttavia che l'Italia non è necessariamente destinata al declino nel secondo dopoguerra durante il miracolo economico il nostro paese ha registrato tassi di crescita del PIL e della produttività tra i più alti di Europa tra il 1950 e il 1973 il PIL per abitante è cresciuto in media del 5,3% l'anno la produzione industriale dell'8,2% e la produttività del lavoro del 6,2% in poco meno di un quarto di secolo l'Italia ha portato avanti uno straordinario processo di convergenza verso i paesi più avanzati tassi di crescita così eccezionali sono legati ad aspetti peculiari di quel periodo in primo luogo alla ricostruzione post bellica e l'industrializzazione di un paese ancora in larga parte agricolo ma mostrano anche il ruolo trasformativo che investimenti innovazione e apertura internazionale possono avere sull'economia del nostro paese per l'Italia la next generation EU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo investimenti e riforme l'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione rafforzare il suo sistema produttivo intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà all'esclusione sociale e alle disuguaglianze il next generation EU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni l'Italia è la prima beneficiaria in valore assoluto dei due principali strumenti del next generation EU il dispositivo per la ripresa e resilienza e il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione dei territori d'Europa il solo fondo di ripresa e resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro da impiegare nel periodo 2021-2026 delle quali 68,9 miliardi sono a sovvenzioni a fondo perduto l'Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti del fondo di ripresa e resilienza che nel nostro paese è stimato in 122,6 miliardi i dispositivi il dispositivo di ripresa e resilienza richiede agli stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme il piano che è stato presentato che si articola in sei missioni digitalizzazione innovazione competitività cultura e turismo rivoluzione verde e transizione ecologica infrastrutture per una mobilità sostenibile istruzione e ricerca inclusione e coesione e salute il piano presentato dal governo italiano in piena coerenza con i sei pilastri della Next Generation U e soddisfa allargamente i parametri fissati da regolamenti europei sulle quote di progetti verdi e digitali è di questi giorni la richiesta del Presidente di Confindustria Bonomi di rivedere il piano per le conseguenze degli avvenimenti recenti in particolare per il problema energetico e per il costo delle materie prime che rischiano di mettere in ginocchio ancora una volta le imprese italiane il 40% circa delle risorse territorializzabili del piano sono destinate al mezzogiorno a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale ovviamente l'auspicio è che le risorse vengano gestite in modo corretto e che il rischio delle infiltrazioni malavitose che ormai purtroppo interessa l'intero paese venga tenuto attentamente sotto controllo sarebbe davvero un ben triste primato essere incapaci di gestire in modo corretto tutte queste risorse il piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione alla formazione e all'occupazione dei giovani inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta della strategia annuale sulla crescita sostenibile dell'Unione Europea lo European Flagship gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del non arrecare danni significativi all'ambiente che espira il Next Generation Youth il piano comprende un ambizioso progetto di riforme il governo ha previsto quattro importanti riforme di contesto pubblica amministrazione giustizia semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza la riforma della pubblica amministrazione è volta a migliorare la capacità amministrativa a livello centrale e locale a rafforzare i processi di selezione formazione e promozione dei dipendenti pubblici a incentivare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative si basa su una forte espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità dell'autenticazione della sanità e della giustizia l'obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini la riforma della giustizia ha l'obiettivo di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale in primo grado e in appello e si implementa definitivamente il processo telematico il piano prevede molte misure rispetto alla giustizia ma soprattutto lo scopo finale è di rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento per definire in termini ragionevoli la durata dei processi la riforma finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della legislazione abroga o modifica leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana dei cittadini delle imprese e la pubblica amministrazione la riforma interviene sulle leggi in materia di pubblica amministrazione di contratti pubblici sulle norme che sono di ostacolo a concorrenza e sulle regole che hanno facilitato frodi e episodi corruttivi il governo ha prediscosto uno schema di governance del piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il ministero dell'economia questa struttura supervisiona l'attuazione del piano ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla commissione europea invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti le amministrazioni locali invece sono responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme per una progettualità di una gestione effettivamente condivisa e come CISL riteniamo si potrebbe pensare di affiancare agli enti locali un tavolo di lavoro permanente con i rappresentanti degli stakeholder del territorio a cominciare dalle parti sociali così da avere un processo di valutazione e di partecipazione della società e della comunità territoriale alla gestione della ripresa il piano di ripresa e resilienza è la parte più ampia e ambiziosa della strategia di ammodernamento del paese noi confidiamo che il governo aggiorni le strategie nazionali in tema di sviluppo di mobilità sostenibile di ambiente e di clima intervenga sull'idrogeno sull'automotive e sulla filiera della salute l'Italia come ha detto Draghi deve combinare immaginazione capacità progettuale e concretezza per consegnare alle prossime generazioni un paese più moderno all'interno di un'Europa più forte e solidale come CISL siamo convinti di poter dare un fattivo contributo affinché l'Italia possa e debba riscattarsi rispetto ai deficit che la affliccono con una ritrovata coesione sociale ed azioni improntate al rispetto della dignità della persona in tutte le sfere della vita individuale ed associata a raccogliere l'ampio ventaglio di sfide connesse alla protezione dell'ambiente al superamento della diffusa e marcata tendenza attuale alla polarizzazione dei redditi e al contrasto dell'inasprirsi dalla disuguaglianza distributiva e ai connessi fenomeni di esclusione e impoverimento tra fasce sempre più ampie di popolazione anche in corrispondenza dell'immigrazione e della precarizzazione del lavoro e del profilarsi di nuove forme di povertà dobbiamo come sindacato contribuire a sopperire alle carenze e alla fragilità della vita democratica alle sue derive oligarchiche con particolare riguardo alla partecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano e al controllo dei governanti e più in generale all'esigenza di ricostruire una robusta fase fiduciaria della vita politica della vita economica e della vita sociale erosa dalle conseguenze dell'orientamento individualistico e della deriva economicista delle nostre società basate unicamente sulle logiche di mercato il nostro territorio esaminare per conoscere conoscere per progettare come si evince dalla ricerca che abbiamo pubblicato curata dal professor Montanari che ringrazio come ringrazio per il loro preziosi contributi il nostro segretario regionale Ducci il presidente della provincia di Pavia Giovanni Palli il presidente della provincia di Lodi Francesco Passerini e Don Franco Tassone da sempre il nostro guida spirituale punto di riferimento nelle province di Pavia e di Lodi è fondamentale compiere uno sforzo collettivo per guardare oltre l'emergenza e condividere un piano strategico di rilancio la CISPA via Lodi lancia con questo studio una proposta di dialogo e di confronto rivolto a tutti gli altri attori dell'ecosistema istituzionale sociale ed economico del territorio pavese e lodigiano ognuno con le proprie competenze e progettualità secondo il proprio ruolo poiché è fondamentale un lavoro di squadra che unisca le forze di tutti questa indagine non ha pretesa diversa da quella di costituire una base di riflessione perché la conoscenza diventa consapevolezza dei contesti e delle situazioni e quindi capacità di comprendere la complessità irreale e prefigurare il cambiamento l'indagine ci restituisce un'immagine di un territorio sia pavese che lodigiano che ha faticato a riprendersi dalla crisi 2009-2019 che ha patito fortemente per la pandemia che stava orgogliosamente rialzando la testa ma che ora rischia con il rincaro delle materie prime il costo esorbitante delle energie e dai carburanti di dover rimettere in discussione le previsioni sul consolidamento della ripresa e dell'occupazione come sempre ho chiesto alle federazioni di condividere con la segreteria confederale un quadro della situazione settore per settore solo chi vive opera sul campo percepisce e conosce i problemi e le criticità quindi questa parte della relazione è frutto di un lavoro collettivo di cui vado orgogliosa perché è solo nella condivisione che il sindacato confederale e quello di categoria possono fare passi in avanti settore per settore cercherò di darvi un quadro locale della situazione così come viene percepita dalla CISL e dalle sue federazioni sulla base della costante frequentazione delle aziende dell'ascolto delle delegate e dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei diversi comparti e dai rapporti con le associazioni datoriali per quanto riguarda il settore agroalimentare significativo sia nella provincia di Pavia sia nella provincia di Lodi gli ultimi quattro anni in cui sono state dilapidate certezze e introdotte precarietà sia nel settore agricolo che in quello dell'industria alimentare si sono avute profonde trasformazioni che hanno accentuato le fragilità delle aziende e modificato il mercato del lavoro nel 2021 la situazione è migliorata consentendo anche una ripresa delle relazioni sindacali e la sottoscrizione di accordi territoriali sia a Pavia sia a Lodi che consentono di guardare al futuro con più fiducia l'agricoltura pavese e l'odigiana hanno bisogno di manodopera operai specializzati giovani che sappiano maneggiare le nuove tecnologie ma anche operai generici il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è un problema che si presenta in molti settori fatto paradossale se si pensa al fortissimo numero di giovani che non trovano alcuna collocazione nel mondo del lavoro i consorzi di bonifica e la difesa dei diritti dei lavoratori del settore dovranno avere un ruolo preeminente nella nuova strategia green dell'economia e andranno inseriti all'interno di politiche che promuovano un'azione integrata dei diversi interessi gravanti sulle risorse idriche per favorire anche in Italia una transizione sostenibile per quanto riguarda l'industria alimentare durante la pandemia la crescita degli ordinativi è stata a volte abnorme con conseguente crescita esponenziale dei fatturati per le aziende e i caseifici che invece rifornivano il canale oreca hotel ristoranti bar e mense che è stato chiuso totalmente per buona parte dell'anno si è dovuto ricorrere più volte alla cassa integrazione covid ora il settore dell'industria alimentare si è totalmente ripreso ad eccezione di alcune aziende di trasformazione del pollame a causa della viaria presente in alcuni stati esteri sicuramente il settore ha visto mantenere e crescere l'occupazione ma come in tutti i settori una occupazione a tempo determinato fatta di somministrati e di precarietà noi auspichiamo che invece nel futuro si possono stabilizzare queste persone per quanto riguarda il comparto della chimica dell'energia del tessile della moda quest'ultimo della moda è sicuramente il più colpito dalla crisi nel pavese e nell'odigiano in particolare il settore calzaturiero presente nell'alta provincia di padia nel corso di questi anni abbiamo assistito ad un impoverimento industriale ed occupazionale di questo importante settore della moda e di tutta la sua filiera composta da micro aziende artigiane nonostante il calzaturiero possa essere considerato uno dei pilastri del made in Italy in grado di rappresentare al meglio la nostra capacità di realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo il settore si trova di fronte a un difficile percorso di consolidamento per rafforzare il proprio posizionamento e ripartire per avviare una nuova fase di crescita servono investimenti a supporto dei processi produttivi ed è necessario accelerare nelle dinamiche di innovazione dei materiali nelle forme nei prodotti rispondere alle esigenze di un mercato che soprattutto nelle fasce medie di alto consumo chiede sempre più qualità e personalizzazione del prodotto dopo molte chiusure subite nel corso degli anni attualmente la preoccupazione più forte è dovuta alla situazione critica del calzaturificio Moreschi specializzato in scarpe da uomo di alta gamma e che occupava circa 200 persone dalla fine del 2021 nonostante la ripresa sostenuta dai mercati del settore peletterie e calzature il fatturato della Moreschi continua a soffrire in modo preoccupante per il 2022 la società ha avanzato un progetto dichiarando la volontà di mantenere l'attività produttiva ma con una forza lavoro ridotta a circa 70 persone durante l'ultimo anno si sono già perse circa 60 persone ed attualmente sono impiegati 140 lavoratori passare a 70 sarebbe il dimezzamento è ora attivo lo strumento della solidarietà e sta per essere affrontato un percorso di uscita su base volontaria per i lavoratori dei reparti di orlatura e di pelletteria contestualmente per i lavoratori si stanno attivando percorsi di formazione e riqualificazione sia interna all'azienda sia esterna deve essere chiaro però che per noi marchio e localizzazione del sito sono e restano un binomio indivisibile per quanto riguarda il settore energetico da parte nostra permane una sempre maggiore attenzione dei processi evolutivi nato nel settore energetico il tema legato alla transizione ecologica infatti sta avendo una forte accelerazione a livello mondiale secondo quanto previsto dal Green Deal europeo il documento programmatico assunto dalla Commissione europea si punta a ridurre le emissioni nette di gas a effetto sera di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 ridurre questa percentuale di emissioni nei prossimi 10 anni è fondamentale per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e tradurre il Green Deal europeo in una realtà concreta l'obiettivo finale è quello di dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse indiscriminato e ripristinare la qualità ambientale e la salute sia delle persone che della natura diversi i vantaggi previsti dal Green Deal europeo che promette di accrescere il benessere e di migliorare la salute delle generazioni attuali e future aria e acqua pulita quanto è importante in provincia di Pavia e di Lodi avere l'aria pulita un suolo sano e di biodiversità edifici rinnovati ed efficienti dal punto di vista energetico cibo sano e a prezzi accessibili per tutti più trasporti pubblici energia più pulita e innovazione tecnologica pulita d'avanguardia prodotti che durano più a lungo non l'usegetto odierno prodotti che si possano riparare riciclare riutilizzare posti di lavoro adeguati alle esigenze future formazione delle competenze per la transizione un'industria competitiva e resiliente a livello globale obiettivo importante che sarà raggiunto anche attraverso il completamento del processo di decarbonizzazione previsto per il 2050 è quindi palese che tale processo impatterà fortemente in particolare nel settore dell'energia per la presenza di importanti strutture industriali e relativo indotto ad esso collegato in tale contesto si registra uno sconvolgimento della strategia ENI che dirotta gli investimenti verso nuove fonti di energia ecosostenibile dichiarando allo stesso tempo l'abbandono nel prossimo decennio della raffinazione tradizionale del petrolio tutto ciò di fatto rischia di segnare il destino delle raffinerie nazionali compresa quella di San Nazaro a cui serve un progetto chiaro di trasformazione riqualificazione e rivalorizzazione diventa secondo la CISL ineludibile pertanto avviare un tavolo di confronto permanente che possa coinvolgere tutti i livelli della nostra organizzazione confindustria energia e le società coinvolte al fine di accompagnare il processo di transizione senza impatti di natura sociale ed occupazionale il nostro territorio è fortemente coinvolto da questo processo di transizione avendo il più importante insediamento produttivo nella raffineria di San Nazaro punto strategico sul quale si sostiene buona parte dell'attività industriale della Lomellina attualmente Eni nonostante la crescita dei consumi e il prezzo del petrolio ha deciso di mantenere fermi più della metà degli impianti della raffineria compreso il nuovo impianto Est fino alla fine del prossimo anno tutto ciò destra una forte preoccupazione sulle prospettive del sito senza un progetto chiaro di riconversione degli impianti verso nuove produzioni e nuove progetti di sviluppo la raffineria di San Nazaro rischia di diventare pereni una realtà obsoleta durante il 2021 l'azienda ha proceduto ad una riduzione del personale che ha coinvolto circa 90 lavoratori con uscite volontarie pensionamenti trasferte limitate nel tempo e nei trasferimenti per effetto del recente e sproporzionato un giorno sindaco per effetto del recente e sproporzionato rialzo dei prodotti energetici in particolare gas e petrolio la raffineria sta procedendo alla riattivazione dell'impianto del gas che da almeno 12 mesi è inattivo si sta procedendo inoltre ad un percorso di manutenzione agli impianti che stanno coinvolgendo circa un migliaio di lavoratori da imprese in appalto ma per il momento non conosciamo la visione prospettica che Eni ha della raffineria in ambito chimico farmaceutico o in gomma plastica la situazione nel Pavese e nell'Odigiano è sicuramente migliore le imprese del settore farmaceutico continuano a creare sviluppo e possono farlo ancora di più in un quadro di riforme che riconosca la farmaceutica come settore strategico per occupazione qualificata produzione ed export proprietà intellettuale investimenti in ricerca e tecnologia e soprattutto per salute e benessere della popolazione e per la sicurezza nazionale l'attività del settore è in crescita e si registra un incremento di occupazione generalizzato tuttavia anche nell'ambito del mercato legato ai farmaci generici si registrano difficoltà per via dell'incremento del prezzo e dell'approvvigionamento di materie prime creando difficoltà alle aziende in un mercato molto competitivo e con margini di guadagno ridotti per via della coerrita concorrenza il settore chimico in particolare non ha subito pesanti fermate produttive e ha operato con continuità cresce la domanda di tutti i prodotti chimici indispensabili per l'assolute ossigeno reagenti e principi attivi farmaceutici disinfettanti e prodotti per l'igiene personale e dagli ambienti le esigenti di sicurezza invece guidano la domanda di plastica impiegata non solo per i dispositivi biomedicali di protezione individuale ma anche per garantire ottimali condizioni di conservazione degli alimenti la ripresa risulta buona nelle aziende fornitrici di prodotti per costruzioni significativa anche nelle auto più stentata nel tessile e nel cuoio nel 2022 tuttavia per tutti i settori citati si sta accentuando il problema del riperimento delle materie prime e il loro costo diventa quasi proibitivo in alcuni settori le aziende energivore quale il settore del vetro hanno problemi di abbattimento della marginalità sulla vendita del prodotto venduto senza interventi decisi da parte del governo per il 2022 si verificerà un doppio rischio per i cittadini e per le aziende incremento dei prezzi causato dal tentativo da parte delle aziende di contenere le ricadute di bilancio e dall'altro un annullamento dell'effetto dell'incremento della produzione del fatturato a causa dell'erosione dei margini di guadagno che freneranno di molto la ripresa relativamente al settore metalmeccanico il sentimento comune è di grande preoccupazione per la partita del futuro la trasformazione ecologica e la sostenibilità ambientale dei diversi settori metalmeccanici ad esempio il passaggio verso l'auto del futuro elettrica ibrida ad idrogeno con motori endotermici a basso consumo ci interroga sul futuro degli addetti al settore le profonde trasformazioni industriali che occorrono per salvaguardare i posti di lavoro nel comparto automotive staranno tutte nella capacità delle industrie del convertirsi e passare dalle vecchie tecnologie legate ai motori a scoppio al cambiamento epocale della nuova componentistica è però necessario un preciso piano industriale è indispensabile il supporto tecnologico per la piccola e media industria serve una linea di credito per gli investimenti così come sono stati previsti in altri settori è fondamentale però che insieme ad un ripensamento dell'industria e del settore ci sia una puntuale riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori per renderli in grado di proseguire il proprio lavoro con le conoscenze e le competenze necessarie e di essere veramente partecipi dei cambiamenti e delle trasformazioni come CISL abbiamo un obiettivo ambizioso puntiamo a realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori come strumento realizzato mediante schemi organizzativi che permettano di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori da un lato nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali con incrementi di efficienza e produttività e dall'altro nel miglioramento delle qualità della vita e del lavoro il settore delle edilizie ha visto dopo anni bui della crisi del 2009 una netta ripresa i timori per il settore legati all'emergenza sanitaria non si sono per fortuna concretizzati nel 2020 la massa salare in Cassedile di Pavia si è ridotta solo del 12% a fronte di una previsione ben più amara intorno al 35% il 2021 e gli inizi del 2022 hanno visto e vedono una crescita costante della massa salari e del numero degli occupati grazie soprattutto al volano del bonus edilizi e per il futuro speriamo anche del PNRR il vero problema oggi in edilizia è quello della sicurezza troppi infortuni e troppe morti c'è molto da fare per fermare questa scia negativa la Filca unitamente alla CISL ha proposte concrete per il problema della sicurezza per esempio rendere penalmente perseguibili le imprese presso le quali si verifichino incidenti sul lavoro se in modo comprovato si siano dimostrate poco attente alla sicurezza dei propri lavoratori la patente ha punti per le imprese punti che vengano scalati al verificarsi di infortuni fino all'esaurimento che dovrebbe portare persino in casi gravi al blocco delle attività il settore del cemento in provincia di Pavia è ormai scomparso con la chiusura della ita al cementi stesso discorso può essere fatto per il settore lapideo sopravvive solo qualche cava in provincia di Pavia qualcuna in provincia di Lodi una delle aziende del settore che noi seguiamo con attenzione è la Marmi Lodi altra nota dolente è quella del settore dei laterizi la provincia di Pavia era il leader europeo nella produzione delle tegole ad oggi non si contano più di tre o quattro aziende del settore una di queste è la Monier la quale seppure tra travagliate vicende che hanno portato alla chiusura dello stabilimento di Castelnovetto sopravvive con uno stabilimento a Bressana-Bottarone in questo caso come in altri si è concretizzato un ruolo decisamente nefasto giocato da alcune amministrazioni e comitati che hanno di fatto vanificato azioni comuni che sia come sindacato che come associazioni industriali si era cercato di intraprendere per mantenere l'attività in atto infine il settore del legno ha visto una forte crescita nel 2020 attorno al 30% che è continuata nel 2021 e continua nel 2022 il settore in salute con assunzioni e crescita degli occupati nello stabilimento di mortare del gruppo Mauro Saviola leader europeo della produzione abbiamo una punta di diamante per quanto riguarda il composito settore dei trasporti cominciando da igiene e ambiente si tratta di un settore che vive e subisce di volta in volta cambiamenti anche rispetto a quelle che sono le priorità della politica i nostri interlocutori sono da un lato le società che gestiscono e dall'altra le proprietà cioè i comuni tra Pavia e Lodi la CISL segue con attenzione tante società alcune a carattere pubblico Broni Stradella SM Voghera SM Pavia SM Vigevano RGH 2A altre realtà che prestano invece un servizio pubblico ma che sono società a carattere privato come la Sangalli CEM Tecno Service in queste realtà si affrontano problemi più svariati ottenere uno spogliatoio decente spesso diventa un'impresa ardua lo stesso dicasi per turni di lavoro meno massacranti o mezzi meno fatiscenti e obsoleti naturalmente ci sono temi più legati strettamente alla contrattazione vera e propria come le interlocuzioni in corso da circa un anno con ASM Pavia dove il contratto di servizio con il comune è scaduto ed è in regime di proroga ad oggi sembra che si arrivi finalmente ad una breve ad una conclusione positiva con la firma del contratto tra comuni di Pavia ASM che dovrebbe garantire un livello occupazionale in seno alla società per almeno altri 15 anni un confronto duro e serrato è stato sostenuto con la Broni Stradella che voleva esternalizzare un settore quello notturno dopo una serie di manifestazioni nei vari comuni interessati Stradella Broni Arena Po e una giornata di sciopero che ha visto una massiccia adesione del personale abbiamo superato la percentuale del 90% dei lavoratori in servizio siamo riusciti a porre la firma su un accordo in cui oltre a fermare le esternalizzazioni abbiamo ottenuto l'assunzione di 13 nuove persone per quanto riguarda il settore della logistica e riders ci interessa fortemente per una presenza massiccia di logistiche sia in provincia di Pavia sia in quella di Lodi il settore è in grande espansione e in forte cambiamento sempre più numerose sono le aziende che vedono nascere nuove professionalità e nuove esigenze con la conseguenza inevitabile dei problemi e criticità crescenti in questa area contrattuale la nostra battaglia sulla legalità ci vede protagonisti quotidianamente perché purtroppo ci sono aziende le cui azioni sono costantemente borderline altre aziende che agiscono in modo completamente difforme rispetto alle norme ci vengono riferiti i fenomeni di pagamento in nero e di personale che lavora senza essere messo in regola a volte il nostro impegno viene vanificato lo voglio dire molto forte e molto chiaro il nostro impegno sulla legalità il nostro come CIS il nostro come FIT CIS viene vanificato dal ruolo ambiguo delle istituzioni rispetto ai problemi che esponiamo nei tavoli istituzionali da una parte alle organizzazioni confederali e di categoria richiesto il buon senso e l'agire nella legalità ma di fronte ai blocchi degli autonomi le stesse istituzioni esortano le aziende per concedere nuovi vantaggi e fare anche in presenza dei blocchi accordi migliorativi con i sindacati autonomi questo fatto indebolisce le organizzazioni sindacali che si comportano in modo responsabile e seguono le regole il settore della logistica è inoltre interessato da un particolare fenomeno di smaterializzazione del lavoro il quale se da una parte contribuisce alla scomparsa di tradizionali segmenti lavorativi dall'altra causa la nascita di nuovi ambiti di mercato non sempre regolamentati la crescita occupazionale che riguarda questo comparto si concentra in massima parte in attività a basso valore aggiunto e interessati da una crescente preoccupante compressione del costo del lavoro posti di lavoro nel quale vengono spesso impiegati immigrati e giovani a basso costo del lavoro si tratta del fenomeno dei riders e dei ciclofattorini che rappresentano una porzione di economia digitale di lavoro su piattaforma il quale conta oltre un milione di lavoratori in gergo si chiama il crowd working ossia il lavoro nella folla quello che associa alla massa indistita dai lavoratori un algoritmo un'app sullo smartphone o su un sito internet in sostanza che cos'è si lancia una proposta di servizio di una prestazione professionale nell'universo sconfinato di internet in attesa che qualcuno lo trovi interessante si tratta purtroppo di una selva di aziende non sindacalizzate che trovano posto nella fascia più bassa del mercato del lavoro e che anche per questo prediligono forme anomale di relazione sindacale quando non optano addirittura per il lavoro irregolare il nostro obiettivo è dunque quello di entrare in questa realtà con cognizione e senza pregiudizio per trasformare la folla di lavoratori in una comunità consapevole ed organizzata è preciso dovere della CISL sindacalizzare un mondo simile per combattere delle pericolose solitudini di massa coniugando tecnologia e umanesimo produttività e solidarietà attraverso la sana rappresentanza di un sindacalismo confederale una delle costanti di questo settore è sicuramente il continuo uso del cambio appalto mediamente tra pavia e lodi ci troviamo di fronte a tre cambi appalto al mese vi sono state situazioni limite come Marzano dove nel 2019 nei primi nove mesi si sono fatti ben sette cambi di appalto siamo di fronte siamo in questo momento in prima linea con HTS la società che fornisce le consegne dei prodotti a McDonald dove stiamo rivedendo l'accordo di secondo livello che vale per le tre realtà Massalengo Bonporto e Monterotondo un accordo complicato perché è necessario coniugare le esigenze di tre territori diversi che svolgono la medesima attività pur con peculiarità proprie anche su questa partita dopo mesi di confronto possiamo dire che siamo finalmente in dirittura d'arrivo i comparti ferrovie e trasporto pubblico locale hanno rappresentato e rappresentano tuttora un punto nevralgico di una società moderna come vuole essere la nostra lì siamo molto forti ma dobbiamo molto lavorare un punto dolente per noi è il trasporto pubblico locale dove sicuramente si ha bisogno di una maggiore caratterizzazione delle trattative a livello territoriale bisogna saper portare sui territori la trattativa per ottenere risultati in autoguidovie facciamo sentire la presenza del sindacato per quanto concerne il bacino padese ci troviamo tuttavia di fronte a un'azienda che cerca in tutti i modi di evitare il confronto territoriale necessario invece a nostro modo di vedere per la discussione di alcuni temi propri del territorio il riferimento è sicuramente ai turni di lavoro per i quali spesso si osserva una modalità operativa di chi si nasconde dietro un'emergenza sistematica è indispensabile lo diciamo anche a livello nazionale che ci ascolta che deve intervenire dove può è indispensabile la sottoscrizione di un nuovo protocollo di relazioni industriali impermiato sulla possibilità di interazione del comparto sindacale territoriale in autoguidovie insieme a CGL e FAESA abbiamo in atto un'avvertenza molto forte abbiamo dichiarato una prima azione di protesta per il giorno 23 prossimo venturo in quanto ci sono troppe questioni aperte ad esempio il non rispetto delle norme per il ciclo extraurbano la mancanza di norme per il ciclo urbano l'utilizzo spropositato delle sanzioni disciplinari a scopo punitivo la mancanza di disciplina che tuteli maggiormente il lavoratore che incappa nei procedimenti disciplinari spesso strumentali e tesi a licenziare i lavoratori con vari pretesti spesso destituiti di fondamento abbiamo pagato duramente come CIS la nostra orgogliosa resistenza ma questi sistemi discutibili non ci piegheranno questo deve essere chiaro a tutti i livelli a Lodi stiamo affrontando un grosso impegno che ci vede in prima linea nell'armonizzazione di tre contratti aziendali relative a tre società Lime PMT e Star le tre società da gennaio sono confluite in unica società Mobility Star Mobility Star un percorso difficile con l'aggravante di un portafoglio ridotto abbiamo già affrontato alcuni temi con uno sviluppo delle trattative che ci vede proiettati a voler armonizzare i tre contratti aziendali molto diversi tra di loro ma che ci fa sperare di poter addivienire ad un risultato positivo per i lavoratori che operano nella nuova società per quanto concerne le autostrade presenti in provincia di Pavia e Lodi a 21 a 1 e a 7 attraverso le stazioni di svincolo persistenti nel territorio le relazioni sindacali attengono per lo più la struttura regionale e alle rappresentanze aziendali di ogni singola realtà in questo settore è possibile fare due considerazioni importanti la prima inerente al lavoro che ha visto il protagonismo della nostra organizzazione sindacale al fine di garantire la tutela delle retribuzioni comprese quelle accessorie dei lavoratori delle singole aziende pur nel periodo più pesante della pandemia con un traffico veicolare autostradale ridotto ai minimi termini la seconda relativamente all'impegno profuso sul tema della sicurezza sia degli operatori che dell'utenza in transito sulla rete ribadiamo ancora una volta i risultati estremamente positivi della sperimentazione fortemente voluta e perorata quasi esclusivamente dalla nostra struttura sindacale della banda sonora in fresatura sul secondo tronco di Aspi autostrade che ha visto registrare un dato del calo di circa il 40% in meno di incidentalità sulle tratte considerate a fronte di risultati tanto positivi ci saremmo aspettati che la sperimentazione venisse implementata fatto che per ora non sia realizzato ma come CISL saremmo sempre presenti e attenti ad azioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori che rappresentiamo per quanto concerne il settore del turismo della ristorazione dell'assistenza alle persone della guardiania del pulimento il ragionamento è forzatamente articolato e composito anche perché il settore dei servizi è il più corposo in termini di aziende attive sia in provincia di Pavia sia in provincia di Lodi cominciando col settore sociosanitario sono presenti circa 80 RSA in provincia di Pavia mentre in provincia di Lodi ce ne sono 17 è di fatto questo un settore strategico per il territorio abbiamo visto i dati inerenti alla popolazione circa il 25% delle nostre popolazioni a un'età superiore o pari a 65 anni e questo dato è in costante aumento riteniamo pertanto che il settore nei prossimi anni subirà un'ulteriore implementazione per questo sarà fondamentale presidiarlo con l'attenzione che merita le RSA si sono svuotate a causa del Covid le perdite di vite umane sono arrivate a sfiorare in alcuni casi il 50% il 50% degli ospiti è mancato all'interno dell'RSA nel prima parte della pandemia con un crudele gioco del destino le strutture che sono state risparmiate dalla prima ondata hanno subito perdite ingenti nella seconda per fortuna le vaccinazioni massive e le attenzioni profuse hanno arrestato il fenomeno delle morti nelle strutture che attualmente molto lentamente e con fatica stanno tornando a regime oltre alle difficoltà di trovare gli ospiti si aggiunge il problema di reperire il personale da parte delle cooperative in particolare infermieri ASA e OS nel caso degli infermieri la difficoltà è dovuta alla ripresa delle assunzioni nelle strutture pubbliche per le ASA e le OS in parte per l'apertura dei bandi negli ospedali e in parte per il blocco dei corsi di formazione e riqualificazione è chiaro che il rischio sia di sommare emergenza ad emergenza relativamente al turismo ricettivo sul territorio di Pavia ci sono 635 strutture ricettive mentre su quello di Lodice ne sono 196 il territorio è diviso in due realtà diverse Pavia città e prima periferia che ha come clienti principali gli studenti universitari e parenti dei degenti ricoverati negli ospedali della città a causa del covid tutto si è azzerato gli albergatori hanno chiuso e in alcuni casi non hanno ancora riaperto la seconda realtà legata all'oltrepopavese ha risentito dell'impossibilità dei turisti di muoversi sul territorio il rischio in questa fase di ripresa delle attività è di non avere più quella capacità attrattiva che si aveva prima della pandemia i ristoranti hanno anch'essi subito danni pesanti dovuti al fermo delle attività e alla confusione creata dal susseguirsi di decreti a volte contraddittori tra loro solo adesso grazie alla campagna vaccinale e all'introduzione del Green Pass il settore si sta riprendendo stessa sorte toccata la ristorazione veloce con l'aggravante che in questo caso c'è l'utilizzo dello smart working da parte delle aziende del terziario avanzato e della pubblica amministrazione la valersi di questa modalità di lavoro sta passando dall'essere una prassi emergenziale a una prassi consolidata andando così a diminuire fortemente la clientela per quanto riguarda la ristorazione collettiva le mense se escludiamo quelle ospedaliere che hanno sempre lavorato per garantire i pasti dei genti agli operatori sono a tutt'oggi in un limbo le altre fatto di incertezza quelle scolastiche e quelle che vivono di aziende industriali anche nel settore del pulimento dobbiamo fare dei distinguo il pulimento ospedaliero e le strutture sanitarie non hanno risentito dopo dell'emergenza discorso completamente diverso per il pulimento nelle industrie e nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il commercio gli esercizi alimentari ai piccoli e medi supermercati sono rimasti sempre aperti grazie alle deroghe previste dai vari dpcm garantendo l'approvvigionamento dei beni di prima necessità salvaguardando di fatto parte del fatturato e garantendo il mantenimento dei posti di lavoro anche questa categoria di lavoratrice e di lavoratori è stata sempre attiva e presente sui posti di lavoro nonostante il rischio presente soprattutto nel primo periodo della pandemia a loro va il nostro ringraziamento esattamente come siamo grati a tutte le altre categorie che hanno nei periodi più bui prestato il proprio servizio con grande abnegazione il commercio no food ha subito perdite imponenti e parte dei guadagni persi sono andati in favore del commercio digitale ragionamento a parte per le grandi superfici gli ipermercati erano già in crisi prima hanno visto peggiorare le situazioni le motivazioni sono da ricercarsi nei cambiamenti della società e nel diverso stile di consumo che si sta affermando però credo che tutti dobbiamo riflettere sull'e-commerce già prima della pandemia il commercio online stava erodendo il fatturato del commercio classico basta vedere i dati degli ultimi anni mentre il commercio tradizionale stentava a mantenere le quote di mercato il commercio digitale aumentava i volumi in modo esponenziale il covid ha fatto sì che si avvicinassero al commercio digitale utenti che prima effettuavano i loro acquisti in modo tradizionale facendo decuplicare i proventi dell'e-commerce ora il rischio è che con la fine della fase emergenziale buona parte dei consumatori continuino ad acquistare sulle piattaforme online abbandonando gli acquisti effettuati nei canali tradizionali con un ulteriore impoverimento del tessuto commerciale classico che si potrebbe tradurre in una perdita di posti di lavoro siamo consapevoli che il futuro non si può fermare ma si può indirizzare ad esempio facendo sì che questi giganti del web applichino dei contratti appropriati ai propri lavoratori questo è uno specifico compito come organizzazioni sindacali e che paghino le tasse in modo equo e adeguato e soprattutto nei paesi dove sviluppano i volumi di affari invece di versarli in paesi che fanno una tassazione di comodo per quanto tiene il settore della carta della stampa della cartotecnica la conciuntura internazionale come per molti altri comparti mette a rischio un settore già fortemente colpito e dalla pandemia che sta valentamente riprendendosi non solo i rincari energetici rendono le produzioni non economiche ma anche la difficoltà a reperire le materie prime stanno rallentando progressivamente l'attività se il settore della carta come dimostrato in piena pandemia è riconosciuto come strategico ed essenziale per il paese allora deve essere fatto oggetto di provvedimenti mirati per salvaguardare il comparto produttivo noi come CISL siamo consapevoli che occorre sviluppare nuove modelli di negoziazione fra le parti sindacati aziende e istituzioni che consentano di bilanciare esigenze economiche sviluppo tecnologico e benessere sociale in un contesto di forte accelerazione dell'innovazione tecnologica il rischio che si producano ampi processi di emarginazione sociale risulta elevato il settore dello spettacolo è stato uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti delle misure legate al covid dai cinema ai teatri dai concerti alle discoteche questo settore ha perso oltre il 50% degli ingressi in alcuni casi addirittura zerati con un impatto devastante su fatturato ed occupazione è caratterizzato da molteplici figure professionali addetti alle troupe dipendenti tecnici e artistici dipendenti radio e tv con circa 19 contratti collettivi è certamente un mercato del lavoro molto variegato e particolare in cui le norme previste per l'industria tradizionale mal si conciliano con un sistema di contratti così ampio e disomogeneo come CISL dobbiamo intervenire su più aspetti dai corsi di formazione specifica per i lavoratori dal contrastare il lavoro nero con la revisione delle regole di divisione delle carriere e dal creare tutele previdenziali per i lavoratori discontinui per quanto attiene le banche e gli istituti di credito la situazione si è fatta davvero preoccupante per i lavoratori le principali problematiche riguardano le tensioni occupazionali l'eccesso delle pressioni commerciali alcune gradi crisi azientali le continue modifiche degli assetti normativi organizzativi e societari ma la deriva del settore riverbera gravi effetti anche sulle famiglie le aziende e i territori è in corso una vera e propria desertificazione sociale ed economica che investe tutto il paese con il progressivo abbandono delle filiali fisiche da parte dei grandi gruppi bancari la cui prima conseguenza è sempre più paese scadimento del servizio alla clientela contenzioni che spesso si scaricano sui lavoratori d'altro lato questo progressivo ritiro delle banche dal tradizionale radicamento territoriale crea anche un ampio spazio di manovra per la criminalità organizzata che in modo sotterraneo ma invasivo si propone come una sorta di surrogato dell'attività di intermediazione creditizia con ovvie e pericolose conseguenze a titolo di semplificativo vi cito una percentuale il 35% dei comuni sono sprovvisti di uno sportello bancario a seguito delle costanti chiusure e ristrutturazioni con la pandemia causata dal covid-19 ancora in corso posta italiana si è riconfermata la prima azienda del paese a Pavia comunque e a Lodi nonostante l'assunzione di parecchie unità di personale il turnover è ancora troppo lento permangono problemi di organico già rilevati e segnalati da diversi mesi con difficoltà di apertura degli uffici postali con un servizio alla cittadinanza non sempre all'altezza e con conseguenze problematiche che ricadono un'ultima battuta sul personale rimasto l'azione della nostra federazione è vigile e costante e si può constatare dal numero delle loro adesioni per quello che riguarda la nostra federazione che si occupa dei lavoratori somministrati autonomi e atipici la cooperazione con le federazioni si sta rivelando il velovalore aggiunto procede sempre meglio nella maggioranza delle situazioni considerata anche la disponibilità alla collaborazione delle nostre federazioni che hanno compreso l'importanza di estendere tutele ed accordi ottenuti anche ai lavoratori somministrati presenti nell'azienda sono stati anche stipulati accordi di programma tra le nostre federazioni il nostro territorio vanta una prestigiosa università nata nel 1361 l'ateneo più antico della Lombardia è uno dei più antichi del mondo come CISL siamo presenti per rappresentare le lavoratrici e i lavoratori dell'università ma anche per portare le nostre idee e il nostro apporto durante le riunioni degli organismi sempre con atteggiamento costruttivo e consapevoli dell'importanza che l'università riveste nella nostra provincia per quanto riguarda la scuola la federazione non si è mai fermata continuando a dare consulenza in presenza e a fornire quel supporto indispensabile ad una categoria che si è trovata improvvisamente a svolgere il proprio lavoro secondo modalità nuove e mai sperimentate con mezzi propri con un'utenza disorientata e spesso priva di supporti informatici senza famiglia in grado di aiutare rinchiusa in casa senza contatti sociali in spazi a volte troppo ristretti per consentire a tutti i componenti della famiglia di svolgere il lavoro in smart working e seguire le lezioni online sono state inventate le formule più varie pur di coinvolgere gli alunni e far perdere loro il meno possibile nonostante gli sforzi profusi però la didattica a distanza ha lasciato un segno decisamente negativo negli alunni più fragili e la ripresa quest'anno in presenza che noi come CIS l'abbiamo fortemente voluto si è svolta tra mille difficoltà con numerose fermate forzate a causa dei contagi la nostra funzione pubblica si occupa di una molteplicità di realtà opera su 250 comuni un ATS due SST un IRCS un IRCS pubblico due IRCS privati cooperative residenze per anziani è un territorio complesso con tante strutture identi complicato dal punto di vista della logistica ma che ha rivelato forti potenzialità a un vivace tessuto costituito da una rete di delegati a cui bisogna continuare a dare il nostro appoggio la nostra vicinanza la nostra collaborazione affinché continuino a crescere sempre di più partendo dai dati di contesto della pubblica amministrazione certificate dall'ISTAT in una recente relazione le assunzioni e le presenze sono ridotte all'osso da anni i tagli sono stati continui i tagli nella sanità pubblica privata tagli negli enti locali nell'INS nell'INA nelle agenzie fiscali nei ministeri non c'è un'amministrazione pubblica che non abbia una grave carenza di personale da questa drammatica situazione non sono esclusi le lavoratrici e i lavoratori delle case di riposo e del terzo settore che oltre ad avere stipendi molto più bassi dei colleghi della sanità pubblica subiscono le difficoltà di reperire il personale perché la carenza della sanità pubblica sono state in parte compensate da questi operatori che nel pubblico trovano condizioni di miglior favore contrattuale dobbiamo sottolineare con forza il tema della discriminazione e della violenza non siamo più disposti a tollerare nessuna discriminazione e nessuna violenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità non intendiamo derogare da rivendicare condizioni di lavoro che salvaguardino la salute e la sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro che ricomprende anche il tema dello stress psicologico ed emotivo molti dei nostri associati durante la pandemia hanno vissuto eventi che hanno prodotto in loro ferite non più rimarginabili e che li hanno profondamente cambiati la scuola la scuola e la funzione pubblica in questo clima difficile con molti addetti in smart working si sono trovati a dover presentare le liste per il rinnovo dell'RSU nel comparto pubblico una vera impresa che però le nostre federazioni hanno condotto con impegno e coraggio a testa alta riuscendo a presentare moltissime liste contrastando anche comportamenti gravi e sconcertanti da parte di persone che dopo aver utilizzato la CIS l'hanno tradita cercando di ferire a morte la federazione che li aveva valorizzati con ruoli di preminenza ma la CIS non ha paura di queste persone che hanno tradito i nostri valori hanno tradito l'impegno che ciascuno di noi si assume quando entra nella CIS e si mette al servizio degli altri non è la CIS al nostro servizio siamo noi al servizio delle persone la CIS 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 presenti esclusi gli altri sindacati ovviamente di essere al fianco dell'università della CIS la 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 CIS per quanto riguarda l'azione fondamentale della Federazione Pensionati da sempre presente nelle nostre sedi sia principali sia decentrate, come prima accoglienza del pubblico, ha svolto non solo questo pregevole e importante compito, ma ha svolto anche un intenso lavoro di contrattazione sociale con i comuni. Nel Pavese gli accordi sottoscritti sotto molteplici forme sono stati 42, mentre nell'Odigiano ne sono stati sottoscritti 31. Un ringraziamento particolare va tributato da parte mia, a Mario Marchesi e Antonio Floriano nel Pavese e a Claudio Lunghi per il Lodigiano. Il loro impegno ha consentito alla CIS di essere sempre presente ai tavoli, portando competenza e proposte concrete nelle trattative. Oltre alla gratitudine generale a tutti gli operatori della Federazione Pensionati, nessuno escluso, un ringraziamento particolare va a Giuseppe, componente della Segreteria della Federazione Pensionati di Pavia, che con garbo e professionalità ci aiuta concretamente a risolvere i piccoli e grandi problemi delle sedi, con un'azione sempre utile e costruttiva e mai con critiche fini a se stesse. Un riconoscimento va anche ad Anna Maria, altra componente della Segreteria della Federazione Pensionati, che da sempre anima ed ispira lo sportello sociale di Lodi, attività che ha una sua rilevanza ed un suo significato e che produce risultati in termini di proselitismo e cura delle esigenze alla persona. Questi anni trascorsi dal 2017 sono stati davvero intensi. Nel momento della mia elezione ero fermamente intenzionata a raggiungere due obiettivi principali. Il primo, l'equilibrio di bilancio, per avere una CIS più forte e stabile, pronta a fronteggiare il futuro con una maggiore stabilità e sicurezza economica. Il secondo, non per importanza, ma perché poteva venire necessariamente solo insieme all'equilibrio economico, costruire un territorio unito e non due territori, che stavano insieme in virtù di una delibera regionale, ma che vivevano e si comportavano come se questa delibera non esistesse. Gli obiettivi sono stati entrambi raggiunti, grazie ad importanti sacrifici e ad una gestione oculata e prudente delle risorse, grazie a risparmi di sistema e a tagli delle spese superflue, senza però sacrificare alcuna attività. Anzi, rafforzando e potenziando la nostra presenza su tutto il territorio. Non una sola sede è stata chiusa, non un solo recapito è andato perso. È stato fondamentale in questo processo di formazione di un territorio unito e coeso, le elezioni di segretari di federazione nuovi, con provenienze diverse, con mentalità aperte ed esperienze territoriali in territori complessi, che hanno portato una professionalità importante, come si vede anche dai risultati raggiunti, e una mente sgombra da pregiudizi rispetto al passato. Devo ringraziare il segretario regionale Ugo Ducci per il costante sostegno e la presenza attenta ed affettuosa che ha avuto per il nostro territorio. La sua gestione, il sistema Ducci, come ho già avuto modo di definirlo in un'altra riunione, improntato alla democraticità e alla condivisione di obiettivi e di strategie, al coinvolgimento di tutti i territori nel sumo escluso, è stato di esempio di guida in tutti questi anni. Parimenti fondamentale è stato il supporto di Fabio Nava, segretario organizzativo, e di tutti gli altri componenti della segreteria regionale, ciascuno per le proprie deleghe specifiche. La CIS di Pavia Lodi non ha mai mancato di portare il proprio contributo e le proprie proposte, così come non ha mai mancato, di attuare le direttive decise insieme. Sono molto orgogliosa del lavoro svolto dai segretari delle nostre federazioni. Hanno saputo condividere il proprio lavoro gestendolo insieme alla Confederazione, instaurando anche collaborazioni tra federazioni. C'è stato costantemente uno scambio di informazioni, un'assunzione di decisioni condivisa, che ha reso concreta e tangibile a quella sinergia di federazioni e confederazione, che rappresenta la vera ricchezza della CIS. Sono molto grata ai servizi INAS, CAF, SICE, Daticonsum, ALOF, Usciciovertenze, che hanno saputo presidiare il territorio durante tutti questi anni, adattando il loro lavoro alle esigenze del momento. Il CAF CIS Pavia Lodi è presente in 13 sedi nella provincia di Pavia e in 7 nella provincia di Lodi. In queste sedi, durante tutto l'anno, gli operatori assistono gli utenti che si rivolgono ai nostri uffici. Svolge una molteplicità di servizi e negli anni la quantità e la qualità delle pratiche è andata costantemente aumentando. Grazie anche al lavoro delle operatrici e degli operatori. Grazie soprattutto all'instancabile lavoro di coordinamento di Silvia, che ringrazio con tutto il cuore. Colgo l'occasione anche per ringraziare il Presidente di SIC in Lombardia, Marco Ceccherini, sempre vicino al nostro territorio e sempre disponibile a risolvere i problemi. L'Inas di Pavia ha lavorato con risultati davvero notevoli. I punteggi sono entusiasmanti e sempre in crescita, nonostante i contagi dovuti al Covid-19, che hanno per lunghi periodi ridotto i ranghi e costretto gli operatori rimasti in servizio a fare letteralmente salti mortali per coprire tutte le sedi. A loro va il mio ringraziamento, perché hanno saputo far fronte con grande abnegazione al dovere, con rimarchevole impegno al loro compito. Ancora più intenso in questi periodi in cui erano moltissime le richieste di accesso agli uffici, per usufruire dai diversi benefici e strumenti di protezione sociale. La regia sapiente e le capacità organizzative di Giuseppe hanno saputo mantenere un ottimo livello di prestazioni sul territorio. Per questo ringrazio lui e tutte le operatrici e lavoratori. Sull'Inas di Lodi siamo intervenuti negli anni scorsi per migliorarne le prestazioni. Colgo in questo momento l'occasione per ringraziare il responsabile regionale Inas e Remo Guerrini. È solo grazie al progetto concepito con lui e dal suo costante impegno di coordinamento che abbiamo raggiunto risultati rimarchevoli. Le operatrici e gli operatori che lavorano nel territorio di Lodi lavorano con impegno e determinazione e Silvia, che da poco ha assunto il ruolo di responsabile, sta dimostrando sul campo professionalità e capacità organizzative di quelle sono davvero grata. Il nostro ufficio a vertenza ha avuto diversi cambiamenti in questi anni, ma è stato sempre all'altezza del compito. Ringrazio per il lavoro svolto Simone, che ora è entrato a far parte di una federazione, ma soprattutto il mio ringraziamento fettuoso e sentito va in particolare a Melina e Raffaella, che hanno dimostrato di comprendermi e di comprendere le esigenze della CIS con grande professionalità e serietà. Sono aumentate, secondo il loro report, le richieste di consulenza, finalizzate in gran parte a chiudere il rapporto di lavoro in essere e le vertenze si basano in prevalenza sul recupero dei crediti. Per fortuna non abbiamo riscontrato ad oggi un grande flusso di licenziamenti. Molto spesso le dimensioni diventano un importante momento di consulenza, perché chi si rivolge all'ufficio cerca un supporto assistenziale a tutto tondo. Sono in aumento le situazioni di disagio lavorativo e le segnalazioni di comportamenti ai limiti del mobbing. Il nostro ufficio stranieri, presidiato da Bali con grande competenza, guidato dalla maestria di Lewis, dall'agosto 2020, momento dell'inizio della sua collaborazione, risponde alle esigenze delle persone straniere che si rivolgono allo sportello, aiuta nel disbrigo delle pratiche e fornisce un amichevole supporto agli stranieri bisognosi di consigli. Sono molto grata a Balig e a Lewis che hanno preso in mano una situazione difficile. Balig in brevissimo tempo ha trasformato lo sportello in un punto di riferimento di grande qualità. Molto efficace e capillare sul territorio l'azione della nostra di Consum. I volontari lavorano lacrimente e gratuitamente nelle varie sedi, grazie alla regia competente di Lorenzo, a cui va il mio ringraziamento per aver saputo riorganizzare una rete di attività che soprattutto nel padese si era persa negli ultimi anni. Un grazie anche a Giovanni, operatore di Lodi, che da solo soddisfa le esigenze di un'ampia fetta di territorio. Il Sice di Padia si occupa negli ultimi anni dei problemi degli inquilini. Storicamente in Italia la locazione resta in minoranza rispetto alla proprietà. Ciò nonostante in locazione si trovino i nuclei più deboli della società, sicuramente meritevoli di una tutela e di una rappresentanza. In Italia non mancano le case, quasi 30.000 alloggi sfitti, contro meno di 25.000 famiglie in cerca di alloggio. Ma esiste un evidente problema di incontro tra un'offerta molto più onerosa di una domanda a canoni più compatibili con la disponibilità economica delle famiglie. È quindi qui che si espreme la tutela del sindacato degli inquilini, sia nella contrattazione territoriale che nazionale, sia nella difesa e nell'organizzazione degli inquilini. Il nostro Sice ha siglato accordi per la stipula di contratti agevolati per le città di Pavia, di Lodi, di Vigevano, di Voghera e per l'intera provincia. Un ingraziamento a Tiziano, che ha presidiato il territorio con grande impegno e sacrificio. Un ingraziamento doveroso ai nostri rappresentanti per la sicurezza del territorio, Mauro e Mario, che hanno ricevuto riconoscimento anche dagli enti bilaterali, territoriali e regionali per l'impegno profuso nel rispondere alle esigenze delle aziende. Soprattutto Mauro, che ha dovuto sopperire anche a qualche sostituzione degli altri RLST. I nostri rappresentanti sindacali di Bacino, Rosario e Massimo, hanno saputo interfacciarsi con le realtà di Gianali e con i lavori del settore artigiano con grande impegno. Hanno dimostrato di saper parlare il loro linguaggio e di conoscere i loro problemi. Le ringrazio per il loro svolto in un territorio tanto ampio quanto complesso. È fondamentale, come ho detto prima, l'attività dei servizi di supporto delle federazioni e pensionati, grazie al quale le nostre sedi periferiche possono essere aperte ed accoglienti. I nostri pensionati, insieme alle nostre ragazze dell'accoglienza, Arianna, Loredana, Elide, Monica, Paola, sono i primi volti sorridenti che le persone vedono quando entrano nelle nostre sedi. Sono la prima risposta ad un bisogno. Sono insomma un muro portante della nostra organizzazione e a loro va il mio grazie sentito. Un grazie particolare a Simona che si occupa della nostra amministrazione e che rappresenta una sicurezza per la puntuale precisione con cui cura l'aspetto amministrativo. Permettetemi un saluto e un ricordo a Giuseppe Preda, simbolo perfetto dell'operatore dei pensionati, propositivo, accogliente, disponibile, mai inutilmente critico, al servizio della Cisla, autentico Cislino, quale è sempre stato. Sono certa che anche ora, dovunque sia, starà dandosi da fare per aiutare qualcuno. Come Confederazione abbiamo presidiato l'intero territorio, interfacciandoci con tutti i soggetti istituzionali, compito non facile, se si pensa che molti livelli istituzionali sono doppi ed alcuni dipendono da Milano. A titolo di esempio l'ATS per quanto riguarda l'ODI, ma anche la Camera di Commercio, non siamo però mai venuti meno al nostro compito. Nessuna riunione si è svolta senza di noi, nessun luogo istituzionale è stato trascurato. Sono stati sottoscritti in maniera unitaria importanti accordi, protocolli, accordi proposti e stilati documenti sulla sanità, sulla salute e sicurezza, contro la violenza. Abbiamo curato la formazione e la diffusione delle nostre idee e delle nostre proposte. Per quanto riguarda i rapporti con le altre organizzazioni confederali, come CIS di Pavia Lodi abbiamo sempre tenuto fede alla nostra convinzione che nessun soggetto sindacale ha diritto di sentirsi più sindacato degli altri e che la collaborazione, sempre auspicabile e importante, va perseguita nel rispetto reciproco. La linea comune, se è possibile, va costruita insieme. Se non è possibile, deve permanere il rispetto dell'altro. A livello nazionale ci sono stati diversi motivi di divergenza, anche sostanziali. Ho condiviso le posizioni assunte dal nostro segretario nazionale Luigi Sbarra, grazie al quale la CIS sta vivendo momenti di intenso protagonismo. A livello locale è prevalsa la collaborazione. Abbiamo cercato di privilegiare gli obiettivi comuni, a vantaggio delle persone che rappresentiamo e da fronte di problemi contingenti che necessitavano soluzioni condivise. Un esempio per tutti la gestione dei protocolli sulla sicurezza della pandemia. Con le parti datoriali abbiamo sempre intrattenuto rapporti leali e corretti, trovando sinergie comuni e condividendo proposte, nel rispetto reciproco del proprio ruolo. Abbiamo aderito ad azioni dirette sul territorio e condiviso progetti a favore dell'inclusione sociale. Con lo sportello lavoro siamo riusciti a trovare uno sbocco a persone disperate che si sono rivolte a noi in cerca di occupazione. Devo rivolgere un ultimo ringraziamento agli amici che mi hanno affiancato in segreteria in questi anni. Gianluca e Giovanni prima, Edora Stefano e Marco. Abbiamo sempre lavorato fianco a fianco. condividiamo le decisioni, socializziamo le preoccupazioni e immaginiamo le soluzioni. Ma soprattutto siamo amici. Nel vero senso della parola, come ha detto Eleonor Roosevelt, molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. E di certo loro lasceranno un'impronta indelebile nel mio. Molto altro è ancora il lavoro che ci aspetta. Questa segreteria si ripropone per portarlo a termine, con lo stesso spirito, impegno e volontà che ha contraddistinto fino ad oggi il nostro lavoro. Insieme a tutti quelli che vorranno collaborare con noi, per una CIS più forte. Chi ha spirito costruttivo e leale è uno di noi. Come dice Papa Francesco, una persona che pensa solo a costruire muri ovunque si trovino e non a costruire ponti non è cristiano. Io mi permetto di paradrasarlo dicendo che solo chi vuole costruire ponti e rinsaldare il territorio è un vero Cislino e il vuolo e il bene della CIS e di tutti i nostri iscritti. Chiudo rivolgendo un persiero alle donne. Oggi è l'8 marzo. Dedico alle donne di oggi, ma soprattutto alle loro bambine, alle loro figlie, alle loro nipoti, alle donne di domani, la riflessione sulla donna di madre Teresa di Calcutta. Affinché comprendano quali siano i valori da perseguire nella vita. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che con passione ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina piano. Quando non potrai più camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti